Se svolgi un lavoro da imprenditore sai benissimo che ci vuole tantissimo impegno e dobbiamo sviluppare e rafforzare ogni giorno delle abilità quasi da supereroi forza di volontà, costanza, determinazione, potrai andare avanti all'infinito ma per questo ci vuole il giusto mindset e la giusta motivazione Se è la prima volta che guardi un mio video sono Alex, produttore tecnico del suono fondatore della community Produttori Motivati qui giù in descrizione trovi il link per raggiungerci nel nostro gruppo Telegram iscrizione assolutamente gratuita perciò che stai aspettando? Namo! Allora in questa rubrica vi parlo solo ed esclusivamente dei libri che hanno veramente cambiato la mia vita l'hanno migliorata tantissimo grazie a loro ho potuto trasformare la mia passione per la musica in un lavoro vero e proprio e soprattutto mi hanno aiutato a superare tutti quegli ostacoli che inevitabilmente incontriamo sul nostro cammino e oggi vi parlo di un grande classico stravenduto, best seller, miliardi di copie, Rhonda Birne, Byrne, non so come si pronuncia The Secret Chi di voi non ha mai visto il film The Secret scrivetemelo nei commenti così vi posso insultare in maniera scritta sto scherzando ragazzi chiaramente io penso che non abbia bisogno assolutamente di presentazioni questo libro e soprattutto il film a cui poi è seguito il libro come anche nel film qui dentro troverete raccolte tutte le testimonianze di questi grandi autori comunque sono anche registi, editori, conferenzieri eccetera eccetera ve ne nomino giusto qualcuno, qualche nome sicuramente vi sarà noto perché lo porto spesso come contenuto qui nella rubrica, nella playlist dedicata ai libri per noi motivati dottor Gio Vitale, dottor John De Martini, Bob Proctor, il grande Bob Proctor, John Assaraf e molti altri che sono scritti qui per i pochi di voi che non hanno mai visto il film e non hanno letto questo libro vi dico acquistatelo immediatamente immediatamente, non pensateci due volte c'è da dire che il libro, così come anche nel film, è avvolto un po' da un alone come se fosse tutta una cosa magica un mistero di quelli che ti svelo il grande segreto eccetera eccetera in realtà il nuovo pensiero di cui il padre assoluto è Wallace Wattles, che nomino spesso in poche parole in questo libro ti dice che quando imparerai questa tecnica che si divide in tre fasi tu puoi raggiungere qualunque obiettivo, puoi essere, fare, avere tutto ciò che vuoi incredibile, incredibile eppure il momento della mia vita in cui ho guardato il film risale intorno al 2007 mi ha letteralmente aperto un nuovo mondo ero già appassionato di alchimia e di cose spirituali in particolare avevo letto i libri di Stuart Wilde, uno dei più belli, Il Sesto Senso ma dopo aver visto il film The Secret non ho avuto più alcun dubbio in poche parole il nostro pensiero influenza la realtà che ci circonda addirittura possiamo creare la realtà che ci circonda qualunque parola in più sarebbe sprecata perché ovviamente stiamo parlando di un best seller che sicuramente avrete visto o avrete letto il libro e tutti quelli successivi poi mi piace leggervi alcune citazioni che l'autrice ha scritto in particolare questa di Albert Einstein l'immaginazione è tutto è l'anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva oppure questa di Charles Fillmore la sostanza spirituale da cui proviene tutta la ricchezza visibile è inesauribile è sempre accanto a te e risponde alla tua fede e alle tue richieste ovviamente bisogna sempre entrare in azione ogni qualvolta si attua un processo creativo nella nostra mente quando immaginiamo di realizzare un qualcosa un obiettivo, un sogno, un desiderio poi dobbiamo entrare assolutamente in azione non possiamo sederci lì sul divano e aspettare che ci arrivi la manna dal cielo non è così che funziona potrai leggerti tantissime frasi che sicuramente riescono a stuzzicare la tua curiosità tu non sei il tuo passato oppure una celebre frase di Henry Ford che tu creda di farcela o no hai comunque ragione quindi tutto dipende da te se tu non sei convinto di un qualcosa come potrai mai realizzarlo e convincere gli altri? allo stesso modo se invece hai fiducia in te stesso e credi nei tuoi obiettivi in un modo o in un altro li raggiungerai è una questione di costanza perseveranza fiducia in se stessi e tutto quello di cui parlavamo all'inizio del video io spero che se deciderai di acquistare questo libro lo farai passando attraverso il link di affiliazione che ti lascio qui giù in descrizione a te non cambierà assolutamente nulla il prezzo sarà sempre lo stesso ma io prenderò una piccola percentuale che finanzierà i contenuti di questo bellissimo canale di la verità è bellissimo dai su iscriviti aziona il campanaccio e ci vediamo nel gruppo Telegram produttori motivati ti aspetto grazie a tutti 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 grazie a tutti